Musica Mattia Mostacchio, allora una grande prestazione tua e ancora una grande prestazione del Perugia? Abbiamo affrontato la gara nel migliore dei modi, l'abbiamo approcciata bene sin dall'inizio, abbiamo trovato una squadra comunque forte che gioca bene, siamo stati bravi a sfruttare l'occasione che abbiamo creato, è stata sicuramente una partita dura. Le Monesti è una delle squadre che perde meno fuori casa, ma come l'avete affrontata anche nel finale dove c'è stato anche da soffrire? Un bel po' di partite, ci siamo compattati, siamo molto più squadra e abbiamo affrontato la partita come una battaglia, cercando di rimanere concentrati su quello che dovevamo fare noi più che l'avversario, chiaramente con le dovute attenzioni e se c'è da soffrire, ripeto, siamo squadra, siamo compatte, ci diamo una mano, abbiamo fiducia nel compagno, queste sono le cose secondo me fondamentali. Luca Germonis, sei entrato quasi subito, è per te la prima partita quasi per intero dopo tanto tempo? Era tanto che non giocavo dall'inizio, ho un'emozione perché poi quando entri in questo stadio con questi tifosi è una grandissima sensazione. Nel finale dove c'era da soffrire tu forse eri il più giovane in campo ma sei stato anche più intelligente perché hai spazzato dei palloni nell'ovazione dello stadio, quindi hai anche conquistato i tifosi per delle scelte intelligenti. No, diciamo, la palla quando c'è da spazzare io non faccio tanti complimenti, la spazzo. Poi l'altro anno sono venuto da un campionato dove ho sofferto moltissimo e quindi sono riuscito anche a ragionare di più nei momenti più difficili. Perugia-Cremonese non era una gara facile, questo già si sapeva da tempo. Al Perugia va il merito di aver tenuto sempre in mano il pallino del gioco, di aver imposto le proprie idee di calcio alla Cremonese, di aver portato avanti una gara molto molto difficile. Il Grifo l'ha riuscito a sbloccare con un gol di Sherry nella ripresa ma ha saputo anche soffrire quando ce n'era bisogno e questo è ancora una volta un segnale molto positivo. Ora il periodo si trova al quarto posto in classifica, ha raggiunto il primo traguardo stagionale che è quello dell'ipotetica salvezza perché comunque a 50 punti si può parlare di salvezza e ora può veramente sognare ma non fare voli pindarici, continuare a giocare il proprio calcio con tranquillità e i conti si faranno sicuramente alla fine. Bene così. Una gara difficile, combattuta fino all'ultimo. I Grifoni hanno avuto il merito di portarla a casa grazie appunto alla rete messa a segno da Alberto Sherry ma il merito soprattutto di aver saputo soffrire nella difficoltà, cioè di aver saputo compattarsi nella difficoltà e di essere squadra e questo credo ci sia un grande margine di miglioramento da parte del gruppo che nel corso dei mesi ha trovato sempre più compattezza e sempre più solidità. Bene così, ora il primo obiettivo da raggiungere è stato appunto ottenuto, non resta che guardare partita dopo partita cercando di portare a casa più punti possibili. Bene il Grifo che torna a vincere dopo il pareggio del Manuzzi di Cesena, così così il primo tempo, un po' deludenti le prestazioni di giocatori messi in campo, le decisioni di Breda non del tutto convincenti, cioè quella di schierare la coppia di amanti di Carmine dal primo minuto, escludendo quindi Alberto Sherry e la decisione di inserire Buonaiuto come mezzala di centrocampo al posto di Bandinelli. Due giocatori molto diversi, hanno se non altro per il piede utilizzato il destro Buonaiuto e il sinistro Bandinelli, ma anche quindi per tutta una serie di caratteristiche tattiche. Meglio invece il secondo tempo, ovviamente determinante l'ingresso di Alberto Sherry. Non potevamo pretendere chiaramente di vederlo in campo dal primo minuto, lo ha detto Breda anche a fine partita, il giocatore era provato dopo le sfide giocate con la nazionale Under 21. Dopo la rete decisiva, come sempre, molto bella intorsione di testa su punizione di diamanti di Alberto Sherry, è entrato anche Bandinelli e quindi si è ricomposto un po' quello che è l'undici titolare, perlomeno in questo girone di ritorno. Bene la difesa contro una Cremonese che ha badato poco al sottile, ha puntato a spazzare via palloni, chiudersi, cercare di ingabbiare la trama offensiva del Perugia, ci è riuscita abbastanza bene nel primo tempo, non ci è riuscita quasi per niente nel secondo, nei primi 20-25 minuti il Perugia ha di fatto preso in mano le redini del gioco, creando numerose occasioni per portarsi in vantaggio, facendo densità in attacco, smistando molti palloni, Bene Germoni che ha dovuto sostituire Pagliaci infortunatosi nel primo tempo, pochi minuti dall'inizio, mancava solo la rete, è arrivata con Sherry, lo avevamo chiamato, lo avevamo acclamato tutti, è arrivato, è entrato, ha segnato, ha risolto la partita, poi il campo allentato, la fatica, il fatto di aver giocato domenica sera contro il Cesena, quindi a soli cinque giorni di distanza questa nuova partita in un campo molto pesante, dicevamo ha forse messo un po' KO i giocatori del Perugia sulle gambe che hanno subito soprattutto negli ultimi 10-12 minuti, compreso anche il recupero, l'iniziativa della Cremonese che più per forza di inerzia, che peraltro più per disperazione, gettava questi padroni in avanti cercando il rimpallo giusto, anche il colpo fortunoso rocambolesco. Ha rischiato molto il Perugia, c'è stata anche una rete annullata ai grigiorossi, per un fuorigioco peraltro netto, evidente, quindi giusto, giusta la segnalazione del guardalinee. Il Perugia ha rischiato, chiaramente in volta nel recupero è stato colpito da crampi, insomma ci sono state molte difficoltà, ma il Perugia ha saputo soffrire, ha saputo accelerare i ritmi quando era necessario, ha saputo poi controllare la partita, non è riuscito a chiuderla, però poi ha saputo soffrire e portare a casa questi tre punti fondamentali che ci proiettano al quarto posto in classifica in coabitazione con Parma, Bari e Cittadella. E ora il 3 aprile, subito dopo Pasqua, andremo a giocarci questo recupero sul campo della Provercelli, una gara ovviamente, nemmeno a dirlo, da vincere assolutamente e andiamo così. Intanto il primo obiettivo è stato raggiunto, 50 punti, significa praticamente virtualmente la salvezza raggiunta e ora finalmente possiamo dire di esserci messi alle spalle tutto quel periodo nero che purtroppo avevamo subito tra ottobre e novembre, poi ci avevamo assistito tra ottobre e novembre e anche nel finale del Gironi d'Andata. Il Perugia di Breda è veramente una macchina da guerra, fa tanti punti e ora speriamo che il bottino possa incrementarsi sempre più. Una vittoria sofferta ma meritata contro la Cremonese spiana al Perugia a prospettive molto interessanti in classifica. Le scelte iniziali di Breda con Diamanti per Cerri e Buonaiuto per Bandinelli non si può dire che abbiano avuto una grossa riuscita, anzi forse hanno un po' turbato quell'equilibrio tattico che il Perugia negli ultimi tempi aveva consolidato e che era la base dei suoi successi. E oltre a questo equilibrio il Perugia ha perso anche un po' l'equilibrio sul campo perché sul terreno viscido o reso viscido alla pioggia i grifoni non riuscivano scivolando continuamente a produrre quel fraseggio che solitamente li porta molto vicini al tiro che stavolta invece ha latitato per tutto il primo tempo. Primo tempo bruttino, chiuso su 1-0-0 che ha fotografato esattamente l'andamento della partita. Cremonese molto abbottonata con l'invenzione anche questa tattica di serata di due trequattisti che però badevano molto più a intassare le linee della mediana e impedire quindi che il Perugia potesse ripartire da dietro con le sue giocate che non a costruire. Insomma risultato 0-0, primo tempo con pochi sussulti. Il Perugia nel frattempo ha speso però molte energie e questo ha portato i grifoni ad una scelta obbligata a cercare l'accelerazione definitiva a inizio ripresa e la ripresa è stata un'altra cosa fino al gol perché il Perugia ha stretto la Cremonese dietro Diamanti ha illuminato con due o tre giocate Mustacchio con le sue sgruppate sulla destra Di Carmine era da solo in aria finché non è entrato Cerri e ecco l'ingresso di Cerri ha dato al Perugia quel peso specifico maggiore in più che questa squadra può avere solo se gioca a Cerri in questa fase sembra veramente imprescindibile l'attaccante di squadra Juventus e questo ha portato il Perugia al gol è stata una punizione di Diamanti pennellata da sinistra dopo un guizzo molto interessante di Germoni sul che è stato commesso fallo questa ha generato la punizione ripeto calciata bene da Diamanti conclusa ottimamente da Cerri che con una torsione bassa Cerri ha incornato la palla è entrata 1-0 a questo punto il Perugia si è visto che era in riserva di energie si è messo dietro non riusciva più a ripartire la squadra di Breda ci sono state alcune situazioni ma proprio la lucidità mancava la Cremonese palle lunghe a scavalcare il centrocampo a cercare mischie è arrivata anche a creare due o tre pericoli anche e soprattutto con l'Umbro Scappini per fortuna il Perugia è riuscito a tenere intatta la porta di Leali anche Leali ha fatto la sua parte in questo finale a conquistare una vittoria che è preziosa che è veramente dà alla classifica del Perugia un carattere suntuoso qualcuno ironicamente ha detto a fine partita che il Perugia ha raggiunto 50 punti è salvo ora può giocare liberamente Breda ha ribadito il concetto che intanto questa squadra tre mesi fa la salvezza sembrava un obiettivo realmente da perseguire a questo punto in Perugia ovviamente non ha più questo velo tra sé e la conquista di obiettivi maggiori a iniziare da Vercelli è alta trasferta difficile per la situazione in cui perla in classifica la squadra piemontese è perché il Perugia ci andrà dovendo recuperare le tante energie spese stasera e probabilmente anche senza Pajac la cui importanza va sottolineato si è vista proprio quando è venuta a mancare nonostante Germoni abbia giocato molto bene il suo sostituto però le caratteristiche sono diverse sono mancati i cross taglienti di Pajac e le sue sgroppate sulla sinistra un po' si sono sentite mancare però in Perugia ha adesso l'abbrivio di queste serie importanti risultati utili e sarà bene che i prodotti di Pajac